Musica Musica Io non c'entravo niente con il riso perché io sono nato nell'alta collina bolognese, quindi conoscevo i castagni. Poi nella vita mi ha portato a scendere a valle, a dedicarmi alle foragere, al frumento tenore, al frumento duro e solo in modo occasionale mi è capitato di dedicarmi al riso che poi è diventata la mia professione. Musica Siamo al centro ricerca sul riso, qui a Castello da Gogna, questo centro è dell'internazionale Risi e si fa miglioramento genetico e produzione semi in questo reparto. Io mi occupo in particolare del miglioramento genetico, quindi costituzione varietale. Musica Ovviamente bisogna aver studiato genetica, della genetica, sapere un po' come funzionano in particolare le leggi di Mendel. E poi bisogna negli anni imparare a conoscere le piante. Quando hai conosciuto le piante, questo ti permette di fare delle valutazioni, di fare dei programmi, di fare dei progetti. E quindi ottenere modelli di piante, taglia più bassa, più produttiva, portamento della foglia più stretta, più resistente alla malattia. E c'è un lavoro, lì dentro c'è dal primo giorno che ho fatto l'ibridazione fino alle linee finali, quindi ci sono otto anni di lavoro nello stesso campo. Quindi ci sono i fratelli maggiori, i fratelli minori e i bambini che stanno crescendo. Musica 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 Il lavoro del breeder è un lavoro, non dico la verità, di grande sacrificio. Qual è l'ambizione? Vedere che un tuo prodotto domani diventa una varietà e che abbia successo a livello nazionale. E non è neanche così scontato, basti pensare che qui all'interno del centro io ho fatto una media di 500 combinazioni di incrocio all'anno, ma il risultato finale è, dopo dieci anni, ottenere una o due varietà importanti. Quindi, che massa di lavoro che bisogna fare per ottenere un risultato importante. Si tengono dei tanti piccoli risultato, un po' come l'olimpide, tanti corrono i 100 metri, tutti arrivano verso i 10, ma uno che vince, ce n'è uno. Si vedono i granelli che escono dalle glumelle, perché noi quando facciamo l'incrocio, perché entri il polline, le forziamo, diciamo, tagliamo la punta per far entrare il polline. Ovviamente il granello quando cresce si allunga e si vede il granello che normalmente è dentro le glumelle al completo. Quindi vuol dire che l'incrocio è venuto, ecco. All'interno di questa banca ci sono 1.500 accessioni. Più della metà di queste 1.500 sono varietà sviluppate e costituiti in Italia, dal 1860 a oggi. Se io oggi voglio migliorare delle varietà, ho bisogno di prendere quei genitori che portano quel carattere, incrociarlo con dei genitori di modelli nuovi che provengono anche da altri continenti, che hanno delle caratteristiche migliorative, che può essere la taglia, può essere la resistenza alla malattia, e fare dei re incroci al fine di costituire alla fine un figlio che abbia più possibile quel granello del nonno o del bisnonno e la pianta più moderna, che è più confacente all'agricoltura moderna. Per ottenere piante più resistenti alle malattie, questo ci permette di ridurre i pesticidi per la difesa. Questo sicuramente. Il lavoro è difficile e abbastanza complicato perché le malattie ci sono di tanti tipi. mettere insieme un modello di pianta che possa coprire un po' tutto diventa difficile, però si fa una grossa parte. è un testimone difficile da passare perché per poter scegliere le piante per così occorrono molti molti anni di esperienza. Bisogna conoscere i genitori, conoscere che cosa succederà o cosa è successo. Tu li hai visti perché hai tanti anni di esperienza. Uno nuovo ha bisogno di molti anni. è questo. Perché lì, in quel momento che scegli, non c'è nessuno che ti possa aiutare. Sei tu che decidi, ok sì, ok no. Se sì va avanti, se no l'hai buttato via e hai buttato via per sempre. È finita. Però se uno non sa, non sa cosa buttare. E questo è peggio che tenere. Perché non buttare vuol dire non dare spazio alle nuovi che crescono. A un certo punto bisogna buttare. E di fatto io tutti gli anni il lavoro è buttare, buttare, buttare. Più che tenere e buttare. Grazie a tutti.